Ciao a tutti ragazzi, siamo benvenuti in questo primo mio video, comunque tra quattro giorni avrà la nuova stagione di Brawl Stars, scrivetemi nei commenti se devo aprire queste casse nel prossimo episodio, però non so quando mi prenderò, mi prenderò, mi prenderò il gemme, mi prenderò qualcosa su qua, come si chiama, su Brawl Stars, però poi non so cosa mi compro, le mega casse, non lo so, nuova ventigiano, comunque vi faccio vedere una cosa gratuita, allora, gioco. Dove il primo. 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 Allora. mettiamo mettiamo a arre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, 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 allora... Come si chiama? No, colta. Come si chiama? Bulli. Bulli, 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 bulli. Come si chiama? 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 Sin dolor, no hai gloria! Punch on punch! Ha 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 ha! La vida duro. Beleza! Raise the fury! There's a big boy! E' il campeonato! E' il campeonato! E' il campeonato! Vittorio! RRRRRR! Giochiamo, giochiamo! Voi con la brosa Con la pastita Vamonos Showtime El campeón 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 El campeón